Sono stato dell'educatore cinofilo e mi ha consigliato di alimentare il mio cane in maniera naturale perché i mangimi in commercio sono una schifezza. Ciao, sono Marzio Sala, presidente di Affinity Dog, e oggi ti voglio chiarire il ruolo delle figure professionali. Per una mia decisione professionale non ho mai consigliato a nessun cliente cosa dare da mangiare al proprio cane o quale veterinario affidarsi. Ritengo che sia una scelta prettamente personale e non di mia competenza. L'alimentazione, come per noi umani, è la componente principale della vita. La frase siamo quello che mangiamo ti dice nulla, so che fa sorridere, ma è la verità. Questo per dirti che solo un esperto può dare consigli sull'alimentazione. Io stesso, per curare la mia salute e la mia alimentazione, mi sono sempre rivolto a centri specializzati o a professionisti del settore. E non ho mai minimamente pensato di fare il fai da te, e così penso anche per il mio cane. Partendo da questo punto, voglio chiarire il vero ruolo delle figure professionali. L'educatore cinofilo è colui che opera nel campo della relazione uomo-cane, colui che ha competenze per lavorare con i cuccioli, per prevenire le problematiche comportamentali, per preparare cani all'assistenza alla disabilità e allo sport. È un consulente che ti aiuta a trovare i problemi comportamentali e ti aiuta a risolverli, ma non può e non deve mai entrare nel campo dell'alimentazione, a meno che non abbia delle competenze certificate. Detto questo, credo che la figura di riferimento per l'alimentazione del cane sia il veterinario. Magari direttamente ti consiglierà un collega per aiutarti. Ecco, questo è l'approccio giusto. Un'altra mia credenza assoluta dopo tanti anni di lavoro è che una persona può fare a meno dell'educatore cinofilo, in alcuni casi del toilettatore, ma mai e poi mai del veterinario che seguirà il cane per tutto l'arco della sua vita. E solo lui può entrare in certi contesti, peraltro delicati. Il mio cane d'ago, un border collie di 12 anni, ad un certo punto ha cominciato a grattarsi in maniera compulsiva. Potevano essere pulci, qualche forasacco o altro ancora. E nonostante i miei 24 anni di carriera in cinofilia, non ho esitato un minuto. Sono andato dal veterinario che con un'attenta visita ed un'accurata analisi ha diagnosticato un problema al fegato che non gli consentiva più di alimentarsi con cibi standard. Per via di questo problema abbiamo dovuto ricorrere a cibi antiallergici e a una terapia di supporto a base di integratori epatici. Grazie al mio veterinario, alle cure erogate e dal cibo corretto, dago ha cominciato a stare bene. Se penso alle mie competenze avrei potuto agire autonomamente, ma avrei rischiato di peggiorare la situazione del mio cane e farla aggravare. Da persona dotata di buonsenso e da professionista serio mi sono rivolto al mio veterinario per avere supporto. Spero che questo video possa essere stato utile e se ti è piaciuto lascia un like qui sotto. Continua a seguire i nostri video e grazie per essere stato con noi.